Nome. Arthur Gary Bishop. Soprannome. Roger Downs. Numero vittime. 5. Modus operandi. Armi bianche, annegamento, pedofilia. Arthur Gary Bishop è nato il 29 settembre 1952 nell'Ojuta, Stati Uniti, da genitori molto religiosi. Arthur finì il liceo con il massimo dei voti poi partì per le Filippine come missionario. Sembrava il classico bravo ragazzo, disposto ad aiutare il prossimo. Ma dietro quel viso d'angelo si nascondeva una personalità tetra e oscura. L'obiettivo delle sue attività di volontariato erano in realtà bambini. Arthur era infatti un pedofilo. I primi problemi con la giustizia li ebbe nel 1978, quando fu arrestato per appropriazione indebita e condannato a 5 anni di galera. Ma nel giro di poco l'uomo riuscì a scappare e rifugiarsi a Salt Lake City, cambiando nome in Roger Downs. In questo periodo partecipò al famoso programma televisivo, Il Grande Fratello. Nessuno degli spettatori poteva sapere che quel personaggio tanto gentile era in realtà un molestatore di bambini, sebbene fosse stato accusato di stupro da dozzine di bambini. Ovunque andava, Arthur usava il suo carisma per attirare bambini, acquistare la loro fiducia per poi invitarli a casa sua o portarli in campeggio. Nel tempo, questo suo carisma portò decine e decine di bambini in una trappola infernale. Gli stupri e i giochi erotici non erano sempre sufficienti per soddisfare il pedofilo. Cinque dei tanti bambini trovarono addirittura la morte. 14 ottobre 1979. Alonso Daniels, 4 anni, fu attirato dal mostro in casa sua, con la promessa di offrirgli caramelle. Una volta in trappola, il bambino fu stuprato. Il tutto era stato ben premeditato. Arthur aveva infatti riempito d'acqua la sua vasca da bagno. Una volta finita la violenza sessuale, infatti, trascinò il bambino nel bagno e lo affogò. Alla fine seppelli il corpo a pochi isolati. 9 novembre 1980. Kim Peterson, 11 anni, si trovava su una pista di patinaggio quando fu adescato dal pedofilo con la scusa di regalargli dei pattini nuovi e molto belli. Doveva solo seguirlo fino a casa. Il povero Kim cascò nella trappola. Giunti a casa dell'assassino, il bimbo fu ucciso a martellate dopo essere stato stuprato. Il corpo fu poi sepolto. Questa volta dei testimoni videro l'uomo in compagnia del bambino e lo descrissero alle autorità come un maschio bianco, di una età compresa tra i 25 e i 30 anni, capelli scuri. 20 ottobre 1981. Danny Davis, 4 anni, si trovava in un centro commerciale con il nonno quando scomparse misteriosamente. Il nonno, non vedendo più il suo nipotino, gridò aiuto. Corsero sul luogo le autorità e diversi testimoni si fecero avanti, riferendo di aver visto il bambino, dopo aver sentito la descrizione fatta dal nonno, in compagnia di un uomo alto, con un sorriso stampato sul viso. Ma le descrizioni non erano molto chiare. La polizia diede via ad una delle più grandi ricerche mai verificate nello stato dell'Oiuta. Squadre di ricercatori perlustravano ovunque, montagne, quartieri, in stagni e laghi. Fu messa anche una ricompensa di 20 mila dollari per chi avesse trovato il bimbo. Prese parte al caso anche l'FBI. Ma nessuna traccia del bambino. Passarono due anni, nel frattempo. 22 giugno 1983. Troy Ward, 6 anni, stava festeggiando il duo sesto compleanno in un parco quando fu rapito. L'uomo lo portò a casa, lo stuprò, lo picchiò fino a farlo diventare rosso e blu e poi lo uccise, annegandolo nella vasca da bagno. 14 luglio 1983. Graham Cunningham, 13 anni, scomparve da casa proprio due giorni prima di un campeggio programmato con un compagno di classe e un accompagnatore di 32 anni, chiamato Roger Downs. La polizia non perse tempo. Ormai sapeva che c'era un pericoloso pedofilo assetato di sangue in quella zona. Interrogò subito questo famoso Roger, avviando anche delle indagini. Ci è voluto poco tempo per scoprire che Roger era in realtà Arthur Gary Bishop, che era ricercato per appropriazione indebita e che era noto ai bambini della zona. Arthur fu tenuto in custodia e, capendo che le indagini stavano arrivando ad un nome, ammise subito i cinque omicidi. Indicò anche dove trovare il corpo di Danny Davis. L'autopsia sul corpicino confermò la violenza sessuale e l'uccisione tramite martellate. Le continue indagini rilevarono che Arthur aveva violentato decine di altri bambini. Finalmente il killer di bambini era stato catturato. Fu portato a processo il 27 febbraio 1984. Disse al giudice che era ossessionato dalla pedopornografia, che fantasticava violentemente sui corpi nudi dei bambini. Ma ciò che fece tremare i presenti in aula e, soprattutto, i parenti delle piccole vittime, fu quando, sorridendo, disse che lo avrebbe rifatto di nuovo. Fu condannato a morte e ucciso mediante iniezione letale il 9 giugno 1988.